Rallegriamoci allora, perché vostro fratello Riccardo era morto, ma è tornato in vita, era perduto, ma è stato ritrovato. Ci aspettano una nuova stagione, fratello. Trasformeremo la discordia in pace e l'odio in amore leale. Adesso che Enric è tornato potremo organizzare una partitella delle nostre, che ne dici? Buona idea, buona idea. Ma forse la gambetta non glielo permette. Perdonami, fratellino. Ma poi... Per me vivere in discordia è atroce. Io desidero l'amore di tutti gli uomini e di tutte le donne. Virtuose. Non si canta a tavola! Non si canta a tavola. D'ora in poi per la nostra famiglia, questo sarà il considerato giorno di festa. Riccardo. 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 Grazie.